Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi lunedì 19 agosto. In primo piano la politica italiana con la denuncia della Premier Giorgia Meloni che ha parlato apertamente di un possibile complotto per colpire il governo attraverso un'inchiesta che coinvolgerebbe la sorella. Vertice intanto con le forze del centrodestra per parlare della Commissione europea, delle nominerai e delle prossime scadenze di governo. Sul fronte internazionale invece non mancano i riferimenti ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina ma ha destato grande commozione in tutto il mondo la scomparsa di Alain Delon, l'ultimo grande divo del cinema internazionale. E poi uno sguardo al calcio che questa sera completa la prima giornata del campionato di Serie A. E allora andiamo subito sul Corriere della Sera che titola Meloni attacca su mia sorella Fango e Teoremi. La Premier schema già visto con Berlusconi, le voci su nomine e inchieste. Renzi parla di ansia da complotto. E si parla anche del vertice nella masseria Ceglie Messapica. Tuffi e spritz con Salvini, poi l'appello a stare uniti mentre nessuno può vietarci di parlare di ius scuole e l'intervista a Tajani, il vicepremier e leader di Forza Italia. Ma a centropagina vedete questa fotografia di Alain Delon, film, amori, tormenti. Delon, il divo più bello, l'attore francese, era malato da tempo e si è spento ieri. E non mancano i riferimenti internazionali come Hamala Harris, Trump. La loro America è il nostro futuro, imprevedibile. Leggiamo Paolo Giordano che scrive «Tutti guardano l'America e quasi tutti ci spiegano l'America. Chi ci è vissuto, chi l'ha visitata, chi l'ha vista, letta, ascoltata, chi la odia o ammira. L'America sembra semplice. Tutto schematico, binario, anche la politica, due partiti, due visioni del mondo che sapremo descrivere in poche parole». Poi nelle pagine interne si continua questo editoriale. Ma c'è anche un riferimento ai contatti segreti. Mosca-Kiev, il ruolo del Qatar, il paese grande mediatore. Federico Rampini scrive «Per quanto siano esili tutte le speranze di pace passano per Doha». Il Qatar è centrale da tempo per i negoziati su Gaza. Di recente stava per ospitare anche una trattativa russia-ucraina per il cessato del fuoco, saltata in seguito all'offensiva delle forze di Zalensky sul territorio russo. E poi le inchieste in Italia. Sharn, venti nomi per la soluzione di un mistero, il delitto che era lì. Maddalena Berbeni scrive «Ancora mistero sul delitto di terno di isola e la morte di Sharn. L'attenzione è su una ventina di persone inquadrate dagli impianti di videosorveglianza vicino alla scena del delitto. Non ancora è identificata e non è escluso che tra loro si possa nascondere l'assassino». Ma c'è anche un riferimento ad un'altra vicenda di cronaca che ieri ha turbato l'intero paese. Uccide a fucilate il padre e una vicina. Panico a San Candido in alto Adige. Il killer è un'ex guardia giurata. Poi si è suicidata. Carlotta Verdi scrive «Uccide il padre e una vicina di casa. Poi si toglie la vita. La tragedia a San Candido in alto Adige. Ewald Kubacher era una ex guardia giurata. Il padre novantenne era semi-invalido. L'altra vittima, Voltrud Judd, aveva 50 anni. Dopo il doppio omicidio l'uomo si era barricato in casa. Poi l'irruzione delle teste di cuoio e l'uomo sentendosi braccato si spara con il fucile un colpo alla gola. E poi è morto qualche minuto dopo in ospedale. E ci spostiamo sulla Repubblica che invece titola sulla controffensiva della destra. Meloni, l'arma del complotto. La Premier accusa a PM media di voler colpire la sorella Arianna per far cadere il governo. Come fecero con Berlusconi, sconcerto dei magistrati. Fratelli d'Italia rilancia. Donzelli, cospirazione. Rampelli, metodo mafioso, ma le prove non ci sono. E Renzi ribatte. E nervosa, vede fantasmi. Oppure sa cose a noi ignote. Intanto nel vertice masseria con Salvini i timori per l'eventuale scissione di vannacci. A Ceglia Messapica, in provincia di Brindisi, alle 17.56 il teleobiettivo premia il fotografo appostato dietro il muretto. Eccola, è Arianna. È l'unica inquilina della masseria a beneficio che non riescono mai a immortalare. Da giorni un fantasma. Oggi è lei lo snodo del governo e del paese, scrive Repubblica. Ma c'è anche l'editoriale affidato ad Ezio Mauro, Metamorfosi di Forza Italia. E c'è ancora un riferimento al giallo di Terno d'Isola, il compagno di Sharon. La amavo, sognavo un figlio. Aiuterò la giustizia. Ma a centropagina la fotografia con un titolo eloquente. A Dio, Alain Delon, il divo francese è morto a 88 anni. Ma per la cronaca internazionale, in viaggio con Kamala Harris verso Chicago. Medio Oriente, Hamas dice no al patto sulla tregua. A Tel Aviv parte in salita la visita del segretario di Stato americano Blinken in Israele. A Hans diffonde un comunicato che suona come un rifiuto del piano per la tregua. C'è anche un riferimento allo sport, al calcio. Conte c'è solo da chiedere scusa. Il cuore sanguina. De Bacla del Napoli a Verona ha perso 3 a 0. E ci spostiamo sulla stampa, il quotidiano di Torino che titola Meloni nel labirinto di Arianna. Un giallo l'anticipazione di indagini sulla sorella. La leader di Fratelli d'Italia attacca, è grave, è come con Berlusconi. E poi il progetto di Vannacci per spaccare il carroccio e lanciare l'opa sui sovranisti, i timori della difesa. Il Sasso, lanciato ieri mattina dall'editoriale del direttore del giornale, Alessandro Sallusti, vogliono indagare Arianna Meloni, diventa ben presto una valanga. Con un tempismo sistematico e organizzato arriva una batteria di dichiarazione in difesa della sorella del Premier da parte di esponenti di Fratelli d'Italia. E c'è anche il commento, quel legame tra sorelle e il partito di famiglia. È un commento affidato a Marcello Sorgi. Ma c'è anche un reportage dalla striscia di Gaza, l'epidemia che dilaga, bombe e nienti aiuti, la crisi senza fine della striscia di Gaza. Francesca Mannocchi scrive, non si fermano gli ordini di evacuazione a Gaza. A poche ore dal nono viaggio nella regione del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che dovrebbe incontrare oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e spingere ad un accordo per il cessato e il fuoco, le zone umanitarie della striscia continuano a ridursi, così tanto che secondo le Nazioni Unite l'84% dell'intera popolazione di Gaza è stato sfollato nei dieci mesi di guerra. E c'è poi a centropagina un'altra splendida fotografia, Merci au revoir, Alain Delon, nato nel 1935 e si è spento ieri, in 2024. Ma c'è anche un appello di salvate le ragazze che lottano per l'Iran in cella, moriranno. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Puglia e Basilicata, che titola Accordo su Fitto. Si parla ovviamente della Commissione Europea. Meloni vede Salvini a Ceglio, che è per il commissario europeo, mentre la Presidente Mezzola fa shopping a Polignano, quindi la Puglia, al centro delle vicende nazionali e internazionali. Addio Delon, amori e inganni dell'uomo più bello del mondo, scompare un monumento del cinema, la Francia è in lutto. E poi si parla anche del turismo, Buttiglione Gallipoli non è solo Movida, finita all'Odissea dei Pugliesi a Madeira. E ci spostiamo sull'altro giornale di Puglia e Basilicata, l'edicola del Sud, La Rivolta, capeggiata da un diciottenne, casi destinati ad aumentare. Si parla dei disordini nel carcere di Bari, nella notte tra sabato e domenica. Sarebbe stato un diciottenne in cella per tentato omicidio a scatenare disordini, verificati osì sabato sera nel carcere di Bari. Con lui un uomo con problemi psichiatrici, una categoria per la quale, come denuncio il garante dei detenuti rossi, in Puglia mancano posti e strutture adeguati. Sul caso interviene anche Gian Domenico Cagliazza, storico presidente delle Camere Penali d'Italia. Di questo passo, suicidi e rivolte, sono destinati ad aumentare. Ma a centropagina vedete il cinema in lutto, addio Adelon, pugile Lucano di Visconti, in Salento il balser con Claudia Cardinale. Ma c'è anche un riferimento alla situazione nel capoluogo di Puglia, a Bari, tensione in vista del Consiglio Comunale, convocato per oggi, in bilico l'elezione del presidente Ranieri. Ma ci spostiamo sul resto del Carlino, giornale del gruppo quotidiano nazionale che titola Conti, Europa, Rai. Disgelo, Meloni, Salvini. La Premier in vacanza vede il leader della Lega e telefona Tagliani. Sul tavolo manovra in nomine, primo incontro dopo le scintille. Polemiche per gli attacchi ad Arianna Meloni. Forza Italia spinge per lo Ius Scole. Proietti, candidata di centrosinistra in Umbria, siamo un modello. E poi, a proposito di modelli, a centropagina, il ballo è finito, addio a Landelon, icona francese e l'ultimo divo del cinema. La commozione di Claudia Cardinale, Tancredi, tra le stelle. E poi c'è anche l'analisi economica. Crescita incerta e debito record di taglio dei tassi aiuterebbe l'Italia, scrive Antonio Patuelli. E poi l'agenda del governo dopo Ferragosto, la vera sfida è l'economia. Serve coesione. A Chicago, intanto, Biden apre la Convention Dem e lancia Hamala Harris. E ci spostiamo sui giornali del gruppo La Provincia. Questa è Sondrio, che titola Baita colpita da un fulmine, si stacca un masso a ponte. Ritorno del maltempo con pioggia, temporali e una serie di danni. Un problema che sta riguardando tutto il centro nord, ma il maltempo si sta spostando anche velocemente verso il sud. La pioggia è tornata in Valtellina e in Val Chiavenna, accompagnata da tuoni e fulmini che hanno lasciato il segno. Come a Lagun di San Giacomo Filippo, sopra Chiavenna, dove un fulmine è piombato su una baita, mandandola letteralmente in fumo. Poco quello che si è salvato, nessun danno a persone, ma boato e grande paura nella località montana. Poi c'è anche un riferimento alla cronaca. Telecamere per incastrare il maniaco. Continuano le indagini in Bassavalle per cercare di dare un nome e un volto al molestatore seriale di donne, episodi che hanno suscitato apprezzione, soprattutto nel Morbeugnese. C'è chi assicura che i carabinieri, dal locale Caserma, grazie anche all'importante contributo dato dalle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza, oltre che dalle preziose testimonianze fornite dalle vittime, conoscano già le generalità del presunto responsabile. Si parla di un uomo tra i 40 e i 45 anni di struttura media agile a muoversi. Ci spostiamo a Lecco, dove è il titolo Nuova Lecco Bergamo, avvio dei lavori a fine 2025. L'opera è in fase di riprogettazione. Il costo ha raggiunto i 235 milioni di euro. Per completare la variante di Vercurago della Lecco Bergamo serviranno, secondo le previsioni, 5 anni e 3 mesi di lavori. Tuttavia non è chiaro quando il cantiere riaprirà e quindi questo fa slittare ulteriormente i dati. La provincia di Como, che dedica un titolo, una falsa apertura al campionato di calcio di Serie A. Finalmente la Serie A titola con Juve-Como in mille a Torino. Ma il titolo principale riguarda gli affitti brevi. Bene gli affitti brevi, ma date case ai residenti. L'assessore regionale Fermi, i sindaci pensino alle giovani coppie. E ci spostiamo a Bergamo, anche qui. Si parla di calcio con l'Atalanta che va a Lecce, con il caso Luckman, che ha chiesto di non essere convocato perché il Paris Saint-Germain è interessato al suo acquisto. E quindi un altro caso dopo quello del giocatore nel mirino della Juventus, Kupman. Il triangolo dello spaccio, presto più vigili in strada, Palafrizzoli. Le vie, Paglia e Novelli, una priorità. Polizia locale, nuove assunzioni. La sicurezza in quella zona è una priorità condivisa con Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine. Lo assicura la sindaca Elena Carnevali. Il ripristino della legalità nelle vie Bonomelli, Paglia e Novelli è in cima alle preoccupazioni dell'amministrazione. E ci spostiamo sul messaggero, il giornale di Roma, il giornale della Capitale, che dedica questa falsa apertura all'addio ad Alain Delon, l'ultimo divo del cinema europeo, aveva 88 anni. La grande bellezza è il titolo. Ma il titolo principale, Meloni, vogliono colpirmi. La premiera è gli attacchi alla sorella Arianna, squalli di Teoremi, schema già visto con Silvio Berlusconi. Il vertice in Puglia con Salvini e Tajani collegato. Sul tavolo le nomine europee, il Casorai e i Balneari. Ma c'è anche un riferimento al calcio in prima pagina, con due fotografie, quella di Paolo Di Bala e di Castellanos. Roma solo pari, Di Bala in campo, Lazio a Razzo, Castellanos super, i giallorossi fanno 0-0 a Cagliari, Venezia K.O. all'Olimpico, 3-1. Napoli shock, Conte dice chiedo scusa. E poi c'è il doppio delitto, il massacro di San Candido, uccide padre e vicina di casa. Due morti e un intero quartiere tenuto in ostaggio per tutta la notte. Poi il suicidio, la follia omicidio di Ewald Kubacher, 48 anni, ha seminato il panico nel paesino di San Candido, nell'alta Valpusteria, dove l'uomo ha imbracciato il fucile e ha cominciato a sparare contro chiunque si trovasse davanti. Dopo essersi barricato in casa per ore e aver ucciso una vicina, il padre invadido, si è sparato all'arrivo dei carabinieri del gruppo speciale ed è morto in ospedale. E poi c'è il volo speciale da Madeira, i turisti bloccati rientrano a Roma, ma 35 sono rimasti ancora a terra. Doveva essere una vacanza, ma per oltre 200 italiani è stato un incubo bloccati a Madeira da Ferragosto. Ieri una gran parte di loro è riuscita a rientrare a Fiumicino, ma 35 sono ancora rimasti sull'isola. E ci spostiamo sul mattino, il giornale di Napoli, della Campania, più in generale del Mezzogiorno. Il titolo principale riguarda il calcio, con il tracollo del Napoli a Verona. Conte che dice, mi vergogno, preso Neres, ma non può bastare. Subito i rinforzi e l'invocazione del quotidiano campano. Non è l'anno zero, ma l'anno scorso, Francesco De Luca commenta così, il Napoli non è all'anno zero, come dice Conte, peggio. E all'anno scorso, più negativo dalla gestione dell'Aurentis, Il Verona ha umiliato una squadra senza idee e anima arrendevole, caduta al primo tiro in porta e poi incapace di recuperare. Ma il titolo principale riguarda il lavoro, lo sprint del Sud. In arrivo gli sglavi per under 35 e donne nelle imprese che investono nella ZES unica. La tendenza della crescita degli occupati nel 2023 si conferma anche nel 2024. Un riferimento ad Alain Delon, il divo più amato, addio, l'ultima icona del cinema. Ma c'è un riferimento anche alla politica. Meloni attacca, vogliono colpirci, schema già visto con Berlusconi, le accuse alla sorella Arianna. Gaza intanto liberate, prima donne e soldatessa. Tregua, l'ultima proposta americana. Gaza, gli Stati Uniti presentano una bozza a ponte su Rafa e il corridoio di Filadelfia. Liberate donne e soldatesse. Il no dei miliziani alle condizioni di Netanyahu, che oggi incontra il segretario americano Blinken. E ci spostiamo sul quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giornale della Calabria, che si occupa anche qui dei temi del mezzogiorno. Sviluppo. Ora il Sud cambia marcia. Ecco come cambia il mezzogiorno a 28 anni dalla legge sui beni confiscati e le mafie. A 28 anni dalla legge 109 del 1996, avanza in silenzio una comunità alternativa a quella mafiosa, che lavora e si impegna a realizzare un nuovo modello di sviluppo territoriale. Aumentano nel 2024 i comuni gestori dei patrimoni sottratti alla criminalità, organizzata, Sicilia, Campania, Calabria e Lombardia, sono le regioni con il maggior numero di realtà sociali assegnatarie. Sono 22.548 i beni immobili destinati con incremento del 14% e crescono le aziende destinate, più 77%, rispetto allo scorso anno. Dai dati raccolti da Libera emerge che più della metà delle realtà sociali è costituita da associazioni di diversa tipologia, 563, mentre le cooperative sociali sono 232. A queste si aggiungono cinque cooperative di lavoro. Nel napoletano l'allarme del presidente Ciro Corona, la cui cooperativa gestisce il fondo rustico Amato Lamberti. Con un pericoloso mix di lassismo e incompetenza, il Comune sta affossando la nostra esperienza che ha dato a molti ragazzi della comunità minorili la possibilità di lavorare e di entrare in un circuito economico virtuoso. E c'è anche la fotografia di un bene confiscato. Qui la camorra ha perso. Ancora qualche titolo, il reportage, il rilancio di Comiso, parte dalla struttura aeroportuale. E poi si parla anche di orgogli meridionali colonese, il soldato borbonico fedele alla patria e al suo re. Così come c'è un racconto, Juan Oshgang, l'atleta dal cuore d'oro. Quando aveva sette anni giocava a campana, come tanti ragazzini della sua età, nella Cina rurale. Dal 2007, proprio lì, era nata, nella provincia di Guangdong, che da sola è grande due volte mezzo l'Italia meridionale. E vi abitano quasi 130 milioni di persone. Era questo l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa, che torna domani, stessa ora, stessa rete, per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.